Accelerare con la somministrazione della terza dose necessaria per contenere l'avanzamento della variante Omicron che viaggia a velocità doppia rispetto a tutte le altre fin qui conosciute. Per questo l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi in accordo con la ASL di Teramo riattiverà a partire da venerdì 7 gennaio l'hub vaccinale presso il villaggio Lido d'Abruzzo. La struttura sarà attiva due giorni a settimana per tutto il mese di gennaio negli orari 9, 13 e 14 e 30 18. Durante la prima fase della vaccinazione l'Hub ha inoculato circa 3.500 dosi del siero anticovid. Il vaccino messo a disposizione dalla ASL Teramana per le terze dosi sarà del tipo moderna. I cittadini potranno prenotarsi presso la biblioteca comunale ubicata all'interno della villa comunale. Una scelta che però tendo e voglio tranquillizzare i miei cittadini non va a penalizzare quelle che sono le altre azioni di governo perché oggi è importante essere prudenti, essere attenti allo sviluppo e all'aumento dei casi ma al tempo stesso la vita va avanti, il commercio va sempre potenziato, tutti i servizi volti alla programmazione della prossima stagione turistica vanno avanti. Insomma voglio tranquillizzare coloro che possono pensare che la pandemia sia qualcosa da cui non uscire. Ne usciremo, ne usciremo più forti, ne usciremo anche grazie a questi strumenti. I 632 casi attivi sul territorio comunale e di conseguenza l'aumento della richiesta di tamponi molecolari ha indotto il comune e la ASL a potenziare il servizio di drive test presso l'area dell'autoporto che passerà dagli attuali due giorni alla settimana a tutti i giorni feriali, da lunedì al venerdì escluse eventuali festivi.